Donata da chi ha fatto della cultura e della comunicazione la propria bandiera non poteva che ricevere una benedizione ufficiale. La natività ripregiata a fattura conservata nella chiesa parrocchiale di Bema è realizzata dal maestro Ulisse Sartini, il pittore dei papi, considerato fra i più grandi ritrattisti internazionali contemporanei e autori di capolavori di arte sacra. Così è stato nella serata di sabato scorso un imponente dipinto ad olio su tela, due metri e mezzo per tre regalato alla comunità nel 2004 dalla giornalista RAI Daniela Cuzzolin Oberosler, è stato benedetto dal vescovo di Come Sondrio Oscar Cantoni, una iniziativa nel segno della rinascita dopo la violenta alluvione che colpì il comune nel 2002, realizzata in sinergia con l'allora amministrazione comunale e la Proloquo. Abbiamo voluto portare a termine un lavoro che era stato iniziato con la collaborazione della signora Cuzzolin perché aveva fatto commissionare una bellissima opera, però tutti quelli che venivano a vedere in chiesa, a visitarla e così non avevano mai, non sapevano mai di chi era stata l'iniziativa e di chi fosse stata l'opera. La giornalista RAI, impegnata da sempre nell'ambito umanitario e sociale, ha in passato ricevuto attestazioni ed onorificenze, tra queste il titolo di Cavaliere della Repubblica e l'Ambrogino d'Oro. Sono molto lieto di essere qui in questa comunità, una piccola comunità ma di persone molto unite e molto legate alla tradizione della Chiesa e quindi mi pare che sia bello che il vescovo si prenda cura non solo delle parocchie più grandi, dove sono più numerose le persone, ma vado a cercare anche tutte quelle realtà piccole e povere ma che sono molto significative. Nell'occasione della visita, Sua Eccellenza, ha benedetto anche un leggio ligno donato da un residente di Bema e l'incavo della Madonna della Neve.